Ciao ragazzi sono Zem89 e oggi giocheremo a Serious MHD The Second Encounter Vediamo un po' quanti danni posso fare contro questi nub Questi nubettini illusi di vincere Madonna Ecco adesso siamo in tre, uno si è levato dai coglioni, un giocatore, siamo Rufio E un'altra testa di cazzo, non so chi è Iniziamo subito sniperando quello sfigato sullo spawn Lui intelligentemente si espone di nuovo Eh l'ho mancato cazzo di framerate di merda A me sta sega Beccato Ma non è morto perché ha preso il rosso Va bene Madonna Oh ma l'ho beccato eppure Ecco Dai Mi va così lento che non riesco a mirare, ve lo giuro Mossa azzardatissima da parte sua, veramente lì ha rischiato Cioè effettivamente l'ho sopravvalutato Pensavo non fosse così scemo Da camminare nella direzione delle granate Però sì, effettivamente è stato così imbecille Questa Questa cosa Insomma Come vedete Con il livello Più grande Già non muoio più Ecco appena l'ho detto sono morto Ha avuto un culo, guarda Nemmeno l'ha capito quanto l'ha avuto grosso Per un bug dell'ascensore Madonna E' tutto il framerate che mi rompe i coglioni Tutto lì La gente non ci crede, non ci crede, capito Dice no, non è vero, è comunque buono Ma dove, ma dove Vedi, te sta di cazzo Ma come vuole, lui è il tuo dio buono Ma capito un cazzo Beccato Pieno proprio Ti capito male Se pensi di fregrammi Ecco Double kill, vai Sono già a 9 9-1 proprio 9-1 Preso Non è morto però Madonna Avrà più di Ah, l'ho preso No, stavolta Ti sei morto Ma che cazzo Non è stato lui con la sigla da ammazzare È stato l'altro dietro Capito Madonna Ti piacerebbe, eh Anticappato Testa di cazzo Non vedi che scappa Ora Invece no C'è un cecchino lì Lo beccarò Eh Dando serio Mi sa che c'è Sì Non ho potuto prenderlo prima Perché Mi ero rintanato lassù Andiamo qua Ora Dove è sto cecchinaro Madonna Ah, è entrato un altro Babbo Natale Dammi quel cecchino Dai Devo Accumulare un po' di Punti salute Se no qui vado giù Cecchino quello Testa di cazzo Eh niente Questa partita Mi sembra Già di averla vinta Prima cosa Perché Anche se il gioco Mi va male Schifosamente Perlomeno Il livello Non è microscopico Nuo scope Eh niente La gente Questi qui non hanno strategia Sono scarsi Proprio Scarsi come non so cosa Guarda Questa là Asciù Dov'è No Rendetevi ne conto Che 53 frame al secondo E' una miseria Proprio E poi No Ma 50 vicino a 60 60 vanno bene No non vanno bene Io addirittura La differenza tra 60 e 80 90 Lo vedo ad occhio Ad occhio nudo Anche se dicono che non è possibile No è possibilissimo Se mi mettete davanti Tu PC Uno a 60 Uno a 80 Vi dico quale è più veloce Senza problemi Madonna Ah Bella l'ultima kill Proprio Una flick shot Così A 30 frame al secondo Troppo bello Niente ragazzi Giocare con Fraps E' una lagna E' palloso Quindi stacco qui Veramente Che già mi va lento Senza Figuriamoci Niente ci vediamo alla prossima Allora ciao ciao ciao